Si è spento questa notte all'età di 79 anni Pippo Grosso, fondatore e direttore di Radio CL1, stroncato da una malattia incurabile. È stato pubblicista del giornale di Sicilia. Tra le sue passioni lo sport, in primis il basket praticato con determinazione, e il calcio, vissuto soprattutto da attento cronista. Con la sua radio seguì la Nissan che nei tempi d'oro della serie C2. La radio è stata comunque una parte importante della sua vita, fin dalla fine degli anni 70, nel momento di massima espansione delle emittenti locali. L'amministrazione e la redazione di Telefuturanisse esprimono le più sentite condoglianze ai familiari. I funerali sabato alle ore 15.30 in Cattedrale.